Ciao a tutti, mi chiamo Anna Dentino Sante e lavoro nella divisione ICT di Edison come responsabile dell'area digital, marketing e business innovation. Siamo la più antica azienda europea nel settore dell'energia, infatti l'anno prossimo compiremo 140 anni e tra le maggiori in Italia. Dal 2012 siamo una società controllata dal gruppo EDF, Electricité de France. Siamo impegnati in prima linea nella sfida della transizione energetica attraverso obiettivi di sostenibilità nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della digitalizzazione e del mercato finale. Ci siamo dati l'obiettivo di produrre il 40% della nostra energia esclusivamente da fonti rinnovabili entro il 2030, a fronte di una riduzione delle emissioni prodotte dal nostro parco di generazione elettrica, ovviamente in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'intero paese. Siamo attivi nella produzione e vendita di energia elettrica, nell'approvvigionamento e vendita di gas, nonché nella fornitura di servizi energetici e ambientali. Infatti Edison Energia è la società del gruppo dedicata alla vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali. La società affianca alla tradizionale offerta di luce e gas un ampio ventaglio di servizi innovativi rivolti alle famiglie, ai professionisti in partite IVA e ai clienti business. Per esempio, per i canali del teleselling e del territorio sono state fatte scelte architetturali che garantissero la scalabilità capace di farci aumentare la nostra forza e volume di vendita e la velocità che ci permettesse di offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile. L'utilizzo di architetture IT moderne basate su microservizi, containerizzazione, servizi cloud è stata un'altra scelta effettuata proprio in questi anni. Quindi la nostra partnership con HCL si fonda proprio su questi due pilastri. La possibilità di utilizzare un prodotto che si stia muovendo nella nostra stessa direzione per quanto riguarda il go to cloud, semplificando in questo modo le integrazioni tecnologiche e che ci permetta di meglio supportare la strategia digitale condivisa dal nostro cliente interno e che rientra nel piano più ampio e ambizioso di creazione di un ecosistema tecnologico cliente centrico. Infatti proprio nell'ambito digital è stato intrapreso un percorso ad oggi ancora in corso che prevede tre tappe fondamentali. Conosci il tuo cliente, supporta il tuo cliente, attira nuovi clienti. Studiando il comportamento dei clienti è ormai evidente la tendenza alla digitalizzazione. Il nostro modello è un utente digitale che visita il nostro sito e vuole tutte le funzionalità a portata di un click. È quindi fondamentale che il nostro sito sia ottimizzato per la visualizzazione da mobile e per lo stesso motivo è importante anche ampliare le funzionalità disponibili sulla mobile app e sul sito anche per quanto riguarda la comunicazione e il look and feel del canale. Per tutti questi aspetti abbiamo sfruttato proprio le capabilities della piattaforma HCLDX e aumentato le sue potenzialità combinando queste funzionalità con anche altri sistemi sempre della suite, quali ad esempio HCL Unica. Infatti, grazie ad esempio all'utilizzo del modulo di Interact di Unica, è stato infatti possibile personalizzare l'esperienza dei nostri clienti per alcuni processi di post vendita prima disponibili solo da canale telefonico. In particolare abbiamo combinato la potenza di Unica nella creazione di target sempre più articolati e granulari, assieme alla flessibilità di integrazione di Interact e le nuove funzionalità digitali di DX. In questo modo siamo stati in grado di fornire un'esperienza utente moderna e soprattutto facile e accessibile, mascherando in questo modo tutta la complessità tipica dei processi del nostro mondo dell'energy. Abbiamo trovato estremamente utile poter lavorare con un prodotto digitale in continua trasformazione, che si adattasse con le funzionalità al percorso di innovazione che stiamo vivendo anche noi. La strategia ad esempio di rendere disponibile questi servizi direttamente nell'area riservata dei nostri clienti si riflette positivamente anche sui dati raccolti nel primo quadrimestre di quest'anno. Sul canale digitale riscontriamo infatti percentuali migliori sia in termini di completamento dei processi interamente in autonomia da parte del cliente. In questo caso la percentuale si assesta per alcuni processi anche al di sopra del 90% e sia di rilavorazione delle pratiche da parte degli uffici di back office. La percentuale di lavorazione per le pratiche provenienti dal canale digitale è ad esempio inferiore del 13% rispetto agli altri canali. In sintesi, le nuove tecnologie e l'innovazione sono per la nostra azienda elementi fondanti per poter mantenere ma anche e soprattutto aumentare la capacità competitiva e la produttività del nostro business.